Una villa nel cuore della Valdichiana pronta ad accogliere madre e figli in fuga dalla guerra in Ucraina. Si tratta di Casa La Fonte, dimora storica di proprietà della Fraternita dei Laici, l'ascito di un benefattore agli inizi del Novecento. È una struttura che può veramente rispondere a quelli che sono i bisogni delle persone. È una struttura che negli anni veniva utilizzata come centro di accoglienza per le donne e per i bambini, quindi con poco può essere risistemata. La Fraternita ha così offerto la disponibilità immediata dell'edificio alla Prefettura e alla Regione Toscana, che in questi giorni hanno iniziato l'attività di ricognizione e censimento dei possibili centri d'accoglienza. L'amministrazione comunale Civitella si è messa a disposizione per aiutare per dei servizi mensa, per dei servizi trasporti. L'edificio ha 15 posti letto disponibili ai quali si aggiungono cucina, saloni e giardino. C'è da sistemarla un po' fuori perché come sapete è una struttura che da qualche anno non è utilizzata, però penso che con poco possiamo veramente rendere fruibile questa struttura. Ringrazio il primo rettore Pierluigi Rossi della Fraternita per la disponibilità di questa struttura. L'appello alla solidarietà è stato poi esteso anche a tutta la cittadinanza. Abbiamo creato un punto di raccolta per i vivere anche attraverso l'aiuto della misericordia della nostra frazione, quindi in questo momento i cittadini vogliono fare la sua parte e le amministrazioni devono fare la loro parte. Quindi un messaggio di pace che soprattutto per le guerre, in questo caso come questa, nel nostro continente europeo, ma un messaggio di pace che deve essere portato per tutte le guerre che ci sono da sempre in tutte le parti del mondo.